Dalla tristezza delle impossibilità, segno della generosa solidarietà, con istancabile abbenegazione per condividere alcune riflessioni. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare, non riesce a leggere le linee alimentari. Per loro che mantengono in funzione, Giovanni per piacere però, sceglie una posizione, continuo aggiornamento, norme quindi all'approvazione del Parlamento. Quel fenomeno di comportamento, in ogni modo e in ogni ruolo, impegnati su questo fronte giorno per giorno. Ringrazio coloro che mantengono in funzione le linee alimentari, coloro che trasportano i prodotti necessari, i servizi e le attività essenziali, alle iniziative e alla nostra vita sociale. Grazie a tutti!